ciao a tutte ragazze eccoci qua con un nuovo video spacchettamento sbirciamento come dirsi voglia sei bellissima come al solito non ti preoccupare se tu sei sempre bella tesoro in collaborazione con la dolcissima e fantastica chiara d'alessandro qui vi metterò il link del suo canale nell'infobox allora partiamo campagna 8 con il lancio del nuovo rossetto 3d e c'è la campagna fedeltà che alla fine si potrà vincere la borsa è stupenda sì mi piace perché anche l'altra cosa mi sa che la mando a prendere poi un'altra un'altra si un'altra borsa sai che alla mamma piacciono le borse tu hai questa e io e tu prendi quella la siamo a posto pensavo che quella la fosse mia fattura non più disponibile poi il tutto per te dove c'è le anteprime di campagna mamma scusa una cosa ma io qua non ho lo scattolone per mettere dentro la roba scusatemi tu mamma intanto comincio scattolone in anni siamo tu intanto cominci e io mi metto qualcosa abbiamo due quattro quindici cataloghi di campagna 7 eccoli qui perfetto e abbiamo un estate di guadagni questo qui lo dovrò studiare niente questo è per noi non è per voi scusate abbiamo le offerte di campagna 8 per noi presentatrici e un'offerta tanto però lo scatto solo per noi un volantino dove ci sono delle offerte solo per noi ma non è a dire da ciao poteva andare meglio come offerte per noi le a le ci siamo possiamo partire abbiamo e poi abbiamo due tre quattro cinque cinque basta fai vedere ci siamo arrivati alla fine cinque bubble butt da 500 ml ok l'altro non ci vuoi capire bene c'è verde e già 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 è gelsomino è vero già già gelsomino gelsomino ok ne abbiamo cinque non per niente un bubble butt ma ma in questi giorni a scuola sto sclerando oggi ero pure dislessica non riuscivo a parlare dicevo una parola ci impegavo tre ore a dire la corretta poi abbiamo quattro spray per il corpo della Avon Naturals e ne abbiamo il mio preferito si no aspetta si è quello di fiori di ciliegio si fiori di ciliegio quello che mi piace tanto e ne abbiamo tre profumazione nuova limone di sicilia e già gerbera gerbera invece va con la già invece no sicuramente con credo che sia gerbera si mi sa anche me leggiamo sto già leggendo io ah ok bene intanto metto dentro gli altri due ok ci siamo gerbera rosa e limone ok intanto vado a pescare c'erano tutti abbiamo due Avon Senses quelli nella nuova nuovo packaging e nuova come si dice nuovi ingredienti ok ma Cristo si apre non mi sono qui ci manca un braccio dentro o è questo no qui ci manca un braccio dentro praticamente si tira su qua non dovremmo essere cinque due quattro ma si man mano lo peschiamo si ok va bene vedi alla fine lo prendiamo poi abbiamo le spugnette per fare lo la 5 pugnette in totale esatto le noi si possono usare fronte a retto si così se ne hanno dieci si può dire vedi che brava lavori abbiamo la tuttina intera quella che ho già come quella che hai ma a proposito no niente niente lascio stare esatto poi aggiunga un po' è facile tosero è dove poi abbiamo un Senses 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 sempre da 500 ammelle no no ci manca niente da dire devo vedere quale che mi manca beh poi abbiamo un Avon Senses da uomo dovevano essere due ma ne abbiamo uno non so perché lo stesso va bene ci siamo sono contenta non è male senti no dai è buono come sta come sta non ci lamentiamo poi continuiamo con uno della marina è finito ah sì abbiamo quattro champi nuovi quelli alla menta e e cerco io e verbena esatto mette peperina e verbena che va bene per chi ha i capelli con la forfora e per l'eccesso di sebo ha un buon profumo lo sto già usando io mi piace buono lasci i capelli morbidi io vorrei utilizzarlo ma devo finire con l'aglioli con è ancora più buono di quello alla camomilla e aloe che uso di solito io e questo qua un po' più più buono a proposito noi sotto la doccia abbiamo due barattoloni grossi insomma quelli grossi di shampoo che tu usi questi e uso gli altri quelli nella confezione nera l'aglioli che ce le facciamo di quelli altri finiamo troppo scoglio dalla doccia insomma si fa quel che si può abbiamo questi qui se non sbaglio dovrebbero essere le perle colorate se non sbaglio quelle che ogni tanto io perdo sì tu le perdi lungo il lavandino con il pennello faccio anche così per prenderle faccio i movimenti circolari solo che si cosano si scappano no si incastrano nei pennelli nel toglierlo no sono ok perfetto sono quelle semplici sono quelle semplici esatto che fanno da bla abbiamo altre poi abbiamo io amo queste spugnate sono bellissime il fondotinta minerale ah sì quello che si 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 ho capito poi l'aspetta voglio prenderlo si ho capito tesoro arrivo 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 sei perfetto questa è la scatolina e la colorazione è la scelte ci siamo dimenticati di dire poi abbiamo una delle nuove creme a noi che ci ordino nuove creme della Avon che è quella trattamento idratante agli posoni trattamento che offre idratazione intensa per una pelle morbida e levigata fino 24 ore mi piace perché ha detto non c'è mai niente non c'è l'italiano e poi mi riusci mette a leggere l'italiano eh l'ho trovato no? non la possiamo farlo adesso tutta eh non possiamo aprirla plasticone piano possiamo aprirla si ci ha dato il oh la voglio aprire si aprila dai la apriamo solamente perché io saluto e ringrazio la Paola ciao un bacione bellissimo perché ci ha dato il consenso di aprire i suoi prodotti così ve li possiamo mostrare grazie mille Paolo sei un tesoro madonna santa stavolta sono in vetro questi qui pesano in quinta cioè sono in vetro attenzione pesano più di vetro un po' esatto vedi c'è il suo plastichino coperchietto in plastica comunque dopo è bianco 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 si quasi tutte le creme sono profumo com'è ricorda una crema della natura no non della natura quella che hai anche tu della insomma quelle che hai nei che si mi ricorda una di quelle è buona perché anche quelle là sono herbal naturas queste sono natura f natura e f f f ed è quella blu all'idratazione poi abbiamo quattro baraccialetti due sono uguali quelli lì sono blu scherza dovrebbero essere quelli dell'acqua si esatto ambientandolo pure da tonica poi questo qua dovrebbe essere la terra magari provo a guardare si questa area esatto poi ci manca il fuoco o che non ce l'hanno presso non è o che non ce l'hanno presso ero convinta ma invece no no sono giusti sono giusti mi sbaglio io abbiamo la crema per il corpo butterfly la 150 ml si è della paola no non ti non ti vede nessuno è della paola allora è buono anche il profumo che c'è il profumo ma anche io muore della mamma ho già capito lo prendiamo si ma poi l'ho trovato il profumo il nicchio rosa mi fanno la tasca davanti del mio jam voglio bene anch'io ti voglio bene amore mio tanto anche la non so che me ne vuoi poi abbiamo quello lì che cos'è è quello il braccialetto quello con le lab ah il lip si esatto mi viene da ma la pena so parlare in italiano non pretendiamo no no ma guarda io non pretendo niente con calma intanto che tu fai vedere quello io faccio vedere un braccialetto che è riuscito la ecco in un video che abbiamo preso per noi tesoro oltre a essere dislessica non riesco a coordinare il movimento cioè quello che voglio fare alle mani aspetta bene poi c'è il braccialetto il orologio il orologio dislessica anche mamma perché vuol dire che piove tesoro sai che quando piove difatti stamattina la cosa del maggior ha sgocciolato no qui è piovuto due ore abbondanti e piovuto qua ma non era proprio pioggia 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 era una pioggiarlina ma insistente si veniva giù fine 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 per due ore da noi e in più quando pioveva abbiamo fatto ancora la prova di evacuazione sotto la piove è certo bello no allora non la potevano fare perché c'erano tipo 30 gradi all'uomo eh no bisogna vedere anche quando nelle situazioni negative insomma non sempre quelle positive è una roba va bene che sono sfortunata a livelli eh ok estremi però non fino a sto punto l'orologio oh che bello odalis l'unisex scusa eh perché c'è scritto white e io ce l'ho red bim un po' hai fatto di questo po' proprio il scarco si arriva eh della serie della serie adesso devo vedere no dai non devi che do fare un reso non c'è voglia ma comunque la squadra mi hanno fatto i complimenti bene per l'orologio anche perché non posso più mandarlo prendere non posso più ordinarli stiamo troppo indietro con le campagne per farmi interaccia posso? grazie Avon perché fai di queste cose mi viene nada mi viene poi c'è stata una bella scena oggi un portachiavi mi hanno fatto si complimenti per l'orologio mi fanno ma come fai a leggere l'ora io guardando le lancette no adesso scusate ma fai ha un ragazzo di meccanica pure un ragazzo di meccanica di 16 anni no è in quarta ah pure buona l'idea cioè ben che venga ti sta cioè non riesci a leggere va bene io ragazzi ho già detto tutto posso partire va bene dopo questa notizia mi piace un sacco questa roba guardo come sono messe le lancette lui mi fa a che ore sono un quarto al che cacchio non me lo ricordo lui ma va guarda sul tuo orologio che in su aveva i numeri va bene il tuo attaccionato ecco qua perfetto sai è da quando la borsina della solidarietà ma ce lo do un po' l'orologio quindi bene o male riesco a 16 16 18 no di più l'anello no ma ne ha di più 18 l'anello da uomo nella misura 10 eccoci qua 2 smalti del gel ci siamo uno è l'antarctic che è questo e l'altro è tutto tieni qui 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 che mi stanno facendo tagliare dai che forse la prossima mese te li tolgono dai guarda se non me lo togli guarda gli scrivo la macchina non dirlo così apertamente che se succede qualcosa dopo ci vengono a pigliare e che cristo a parte il fatto che la cambiate non so adesso ecco bene idratante colorato antiperfezioni privo di oli con acido salicilico della clean our skin ogni tanto continuo a cambiare macchina è un dentista il fer non per niente i dentisti la sera non faccio tempo a imparare la macchina che ha che ha già cambiata quindi non riesco a scusate abbiamo due mascara della super shock quello nero eccoci qua ce ne sono due un mascara big darling prego però non lo aprire grazie è sempre nero? si la sera vuole nero non vuole quelli colorati non prende quelli colorati lei non so cosa abbia conto quelli colorati che noi invece colorati li mangiamo come pane no io li vanno più di tanto la matita ombretto doppia no non i not prego non ce la faccio esatto che non andiamo comunque quella verdino allora c'è celadon da una parte e mint frix dall'altra spostati un po' e ver se riesce a mettere a fuoco ecco tieni oh no qua adesso non ce la facciamo neanche punto ciappa e due correttori della linea non sto già disperando per domani della ideal flowers flowers questi qua in stick un fair e un medium eccoci qua quella roba là questa no se ne sta negate prima niente niente ragazze e noi vi salutiamo mandiamo ancora un grossissimo bacio a Chiara ciao tesoro ciao ciao e al prossimo video